un Presidente che trovò una Repubblica e ne fece una monarchia. L'ha fatta lui la monarchia o forse la politica proprio si è messa in vacanza e quindi si è trovato a dover fare tutto da sola? Perché io questo dubbio ce l'ho sempre molto profondo. Ma una cosa non esclude l'altra, nel senso che le regole valgono sempre. Non è che a seconda dei momenti se uno vede un buco ci entra, come diceva Totò. Se c'è un vuoto politico il Presidente deve continuare a fare il Presidente della Repubblica e non può cominciare a fare il Presidente del Consiglio, il badante dei partiti, il segretario del PD. Infatti adesso c'è un senso di vuoto proprio perché il Presidente è stato costretto dalle circostanze a rientrare nei ranghi. Non è più il segretario del PD, cosa che è stato fino a quando è arrivato Renzi. Non è più il capo del governo Ombra perché ha perso il suo premier prediletto e cioè Letta e quindi è costretto a fare soltanto il Presidente della Repubblica. E dato che sono uscite anche delle rivelazioni di Friedman sul suo interventismo assolutamente fuori da qualsiasi regola per prenotare Monti cinque mesi prima della caduta di Berlusconi, adesso non può fare gli stessi giochetti che aveva fatto prima. Per cui si è limitato a fare quello che avrebbe sempre dovuto fare e cioè assistere a quello che decidevano le forze di maggioranza. Mi dici una cosa, le rivelazioni di Friedman hanno aperto un fronte ampissimo sul Napolitano dove tutti i falchi di Forza Italia si sono schierati sostanzialmente sulla posizione che ha avuto tu e il fatto fino ad adesso. No, assolutamente. Assolutamente, sono due cose completamente diverse. Loro sostengono che Napolitano ha fatto un golpe per rovesciare Berlusconi, eccetera. In realtà Napolitano non ha fatto nessun golpe, Napolitano ha fatto quello che ha sempre fatto e cioè ha perseguito il suo disegno politico. Da quando è stato eletto in avanti lui vuole le larghe intese, detesta il bipolarismo, non sopporta l'esistenza di un governo che governa e di un'opposizione forte e determinata che si oppone. Lui li vuole sempre mettere tutti insieme per fronteggiare quello che ritiene essere il pericolo, quello che chiamano il populismo e che in realtà nei paesi civili si chiama opposizione. Sia essa di piazza, sia essa anti-euro, eccetera. Lo ha provato a fare col governo Prodi indebolendolo, come dice Padua Schioppa nei suoi diari. Lo ha fatto nel 2011 quando si è reso conto che il governo Berlusconi non reggeva. Se avesse fatto pubblicamente delle dichiarazioni nelle quali diceva al governo che così non poteva andare avanti, avrebbe fatto il suo mestiere e invece segretamente si è messo d'accordo con Monti. Dopodiché il governo Berlusconi è cascato per sua debolezza, ha perso la maggioranza, non c'era più, è andata a casa. A quel punto invece di andare alle elezioni, che avrebbero creato quel famoso governo che governava e opposizione che si opponeva, ci ha rifilato Monti, ma non è un golpe. Alla fine Berlusconi ne è l'utilizzatore finale di questi continui intrighi. Perché? Perché Berlusconi si è risparmiato delle elezioni che l'avrebbero asfaltato nell'estate dello spread. Allora, voglio sentire Morani e Sorce Berlusconi. Scusa, Comi, un secondo. Su questa cosa, sulla ricostruzione dietrologica che fa il travaglio di Napolitano, mi trovo in assoluto disaccordo. In tutto questo il Premier Lecce è appena giunto al finale. No, fatemi spiegare perché. Perché Napolitano, sullo sfondo di tutto questo, c'è l'Italia. Questo ce lo dimentichiamo sempre, l'Italia e gli italiani. Il Presidente della Repubblica ha salvato questo paese nel 2011 da un tracollo finanziario. Se ci dimentichiamo quello che è successo... Ma l'ha creato lui! Il Presidente ha salvato l'Italia dal tracollo finanziario. Ma l'ha creato lui! Ma guarda! Attraverso la nomina di Monti ha salvato questo paese da un fallimento clamoroso del governo Berlusconi. Tutto quello che sta uscendo fuori su Napolitano non rende merito a quello che ha fatto Napolitano per l'Italia, che sta continuando a fare, che si è sempre mosso all'interno della Costituzione, di quello che stabilisce la Costituzione. Non lo ha mai oltrepassato il dettato costituzionale. Ed è stato il garante della democrazia, del rispetto delle regole di questo paese. E soprattutto ha garantito agli italiani un governo, dopo il fallimento totale del governo Berlusconi, che ha consentito all'Italia, seppur con immensi sacrifici, di arrivare ad una elezione, purtroppo di febbraio, come è andata lo sappiamo tutti, e che continua in questi mesi difficilissimi ad essere il garante di questa democrazia. Se non avesse accettato il suo secondo mandato, noi ci saremmo trovati. Avremmo un altro Presidente della Repubblica. Si chiamerebbe Rodotà, magari, e non avremmo avuto il governo di larghe intese. Voglio sentire anche Sorgi e Comi, però, perché è un tema cruciale. Io credo che il Presidente vada ringraziato per quello che ha fatto. Sì, guarda, sicuramente. Marcello Sorgi e Comi.